mamma mia ragazzi ore veramente calde veramente decisive ore che ci stanno portando all'acquisto di un calciatore spaziale buongiorno a tutti ragazzi benvenuti o bentornati qui nel mio canale youtube io sono civ99 e oggi ragazzi con un nuovo taglio fresco per l'estate sono qui per parlare oggi di nuovo di calciomercato calciomercato in entrata dopo che lunedì abbiamo parlato dell'uscita di chiesa e dei possibili sostituti ieri quindi martedì abbiamo parlato dell'addio di scezni ormai imminente di cui l'annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore il suo trasferimento dal nas oggi mercoledì siamo qui per parlare del mercato in entrata dell'acquisto che sembra anzi no che sembra che è una cosa praticamente fatta di chi stiamo parlando come avrete visto da immagini in copertina letto dal titolo in grande stiamo parlando di douglas luiz douglas luiz centrocampista della stone villa brasiliano insomma tra poco andremo ad approfondire un attimo prima di iniziare con questo video però ragazzi io vi invito come sempre a lasciare il massimo supporto mi raccomando lasciate tutti quanti like iscrivetevi perché siamo a 855 iscritti e dobbiamo arrivare ai 900 il prima possibile quindi iscrivetevi attivate la campagna delle notifiche per far sì che non vi perderete nessun video su questo canale condividete il video il canale con tutti i vostri amici parenti tifosi della juve insomma così cresciamo sempre di più tutti insieme e poi ragazzi mi raccomando commentate questo video dite un attimo la vostra opinione sia sulla notizia che vado a darvi quindi sulla formula dell'acquisto che sull'acquisto in sé insomma parliamo un po' apriamo un po' un dibattito nei commenti allora ragazzi allora da dove possiamo partire ma possiamo partire anche da proprio le basi perché ieri pomeriggio a cascais una cittadina vicino a lisbona in portogallo tiago motta alla casa lì alla seconda casa lì insomma e ieri giuntoli si è recato a cascais appunto di persona in questa casa incontrare di persona tiago motta gli ha fatto firmare tutti i documenti necessari per diventare il nuovo lettore della juventus quindi ieri tiago motta ha firmato il contratto con la juve tra cui l'annuncio di tiago dovrebbe arrivare in giornata oggi però non sto qui a parlarvi tiago motta insomma cosa si è fatto in questo incontro tra giuntoli tiago motta oltre che firmare i contratti hanno fatto anche diciamo una specie di incontro per il calcio mercato perché hanno discusso un attimo hanno fatto una prima chiacchierata una prima visione sui calciatori che sono da cedere sui calciatori che sono da tenere su quali sono i piani i progetti le ambizioni della juventus e quali sono i progetti piani e le ambizioni di tiago motta per fare insomma un po' tutto insieme insomma hanno tenuto questo pranzo questa cena chiamatela come volete hanno un po' discorso durante il pomeriggio e si è arrivati alla conclusione la conclusione dove appunto è stato detto come serve l'acquisto di un centrocampista e questo centrocampista è Douglas Witts Douglas Witts calciatore appunto brasiliano che milita la Stoneville di cui la valutazione è di 65 milioni e voi probabilmente quando dico 65 milioni come ho fatto io la prima volta siete un po' sorpresi perché questo non arriverà mai 65 milioni da dove li tirano fuori la Juventus e invece no dovrebbe arrivare arriverà perché ragazzi perché ieri è stato trovato l'accordo totale del tutto tutto fatto con l'Aston Villa per lo scambio che include Weston McKennie valutato 20 milioni, Ealing Junior valutato 20 milioni più 18 milioni che potrebbero diventare 20 in caso di aggiungimento di 2 milioni di bonus quindi un totale di circa 60-62 milioni per l'acquisto di Douglas Witts è stato trovato l'accordo totale nel pomeriggio di ieri con per questo scambio poi successivamente ovviamente sono avviati anche i contatti fra l'agente di McKennie e l'Aston Villa l'agente di Ealing e l'Aston Villa lì siamo ancora i primi contatti però comunque e soprattutto per Ealing siamo ancora i primi contatti però comunque la strada è abbastanza spianata per quanto riguarda invece il contratto di Douglas Witts è già tutto stabilito già tutto fatto da diverso tempo perché Douglas Witts interessa la Juve già da due settimane diciamo così e KIA non è nessun mio nome completo però comunque si chiama KIA l'agente appunto di Douglas Witts che è anche l'agente di Zirze quindi occhio pedullà ha detto una notizia qui bisogna prestare molta attenzione insomma sul futuro di Zirze KIA appunto è in ottimi rapporti congiuntoli con tutta la società Juve quindi l'accordo per Douglas Witts c'è già per il contratto di Douglas Witts c'è già ed è quello del contratto fino al 2029 quindi 5 anni di contratto fino al 2029 per una cifra fissa di 4 milioni e mezzo quindi 4 milioni e mezzo fissi di stipendio con poi potrebbero unire aggiunti ulteriori bonus ovviamente per il centro campista brasiliano però di base insomma ha i suoi 4.5 milioni all'anno per 5 anni di contratto adesso l'unica cosa che manca da limare sono gli accordi totali definitivi 100-100 tra Weston McKenney e la Stonevilla Eiling e la Stonevilla però comunque c'è la volontà di entrambi club di chiudere di tutti e tre i calciatori coinvolti nello scambio di chiudere di tutte le società di chiudere di tutte le agenti di chiudere perché andrebbe a favorire comunque tutti e quindi possiamo definire l'affare praticamente fatto poi prima di chiudere questo video, prima di andare in chiusura vi voglio dare un'ulteriore notizia che vi ho dato anche ieri sera su Twitter e su Instagram ovvero che questo colpo da gasolizio non esclude affatto Copp Miners non esclude town Copp Miners perché infatti Copp Miners è un concetto che io seguo da tempo adesso si è anche fermato su altri agli europei quindi questa cosa potrebbe portare la sua valutazione a diminuire o comunque non aumentare cosa positiva e su Twitter vi ho scritto come l'Atalanta per chi mi segue da più tempo lo sa, fino a due settimane fa non prendeva in considerazione la possibilità di inserire nella trattativa delle contropartite tecniche dalla giornata di ieri invece diciamo che ha iniziato, nelle scorse giornate ha iniziato anche ad accettare delle contropartite infatti se la Juventus volesse andare a chiudere 30 milioni, 30 barra 35 milioni più il cartellino di Tuan Huysen a titolo definitivo all'Atalanta e l'affare si potrebbe chiudere quindi occhio perché Douglas Solitz non esclude assolutamente il colpo Copp Miners poi a breve entro pochi giorni, veramente pochissime ore, pochissimi giorni forse anche prima dell'inizio di Euro 2024 quindi anche prima di sabato sapremmo qual sarà il futuro di Rabiot e poi in base al futuro di Rabiot sapremmo cosa succederà poi insomma perché se resta Rabiot, cioè se arriva Douglas Solitz e resta Rabiot, Copp Miners io lo definirei un obiettivo ormai andato se invece Rabiot parte e arriva Douglas Solitz, occhio anche a Copp Miners quindi 30-35 milioni più ieri e si può chiudere anche per Copp Miners detto questo ragazzi, mia piccola opinione è bravissimo a fare lo scambio McKennie più healing più 18 milioni e 100 milioni per Douglas Solitz affarone perché ti vai a liberare di due scarti che non ti seguivano più, che non ti avrebbero nemmeno cioè che non saresti stato sicuro che ti avessero portato un guadagno necessario nelle casse te li vai a cedere così 18 milioni per Douglas Solitz, un giocampista totale uno dei 100 campisti a mio parere più forti in Premier League e quindi più forti anche d'Europa se non addirittura al mondo che è convocato col Brasile, che sta facendo bene col Brasile quindi veramente un affarone, sono contento, sono casato per Douglas Solitz e niente ragazzi, io vi ricordo come sempre di lasciare il mio supporto like, iscrizione, commentino, attivate la campione delle notifiche passate a seguirmi su tutti gli altri miei social, twitter, alle cbn, instagram, trattino basso cb19, trattino basso, dove troverete tutte le notizie in esclusiva e non solo di calciomercato dell'Aventus e non solo, principalmente su twitter troverete tutte le notizie di calciomercato e di tutte le squadre d'Italia ed Europa e del mondo quando avrò notizie e niente ragazzi, non ci vediamo precedente con un nuovo video fino alla fine, forza, Juventus, ciao ragazzi